Buonasera, sono Alessandro Ratti, faccio questo video per dare seguito a quanto ho portato avanti qualche mese fa, forse addirittura un anno fa, sul mio blog e su alcuni social. Premetto che non sono un abile oratore, né uno youtuber o quant'altro, semplicemente voglio condividere delle idee, il come sono arrivato a certe, chiamiamole teorie, chiamiamole considerazioni, idee, non è il caso di discuterne ora, vorrei come primo video andare subito al soto per far capire qual è l'obiettivo di tutto questo ragionamento, di tutto questo lavoro. L'obiettivo è creare un gruppo di lavoro per portare avanti un'idea. L'idea è questo software di simulazione che simula il comportamento che avrebbero le cariche secondo la teoria delle cariche per giungere ad un modello reale in cui data una certa distribuzione di protoni e elettroni si dovrà vedere la formazione della materia così come la conosciamo con le percentuali di idrogeno e quant'altro, tali e quali, o grosso modo, come sono nella realtà. Il software è uno stato primordiale, la struttura di base è funzionante, però chiaramente l'interfaccia grafica si può migliorare ma non è quello l'obiettivo. L'obiettivo quindi prendere confidenza con la teoria e con il software e settare i parametri per arrivare ad una modellazione, ad una simulazione realistica che dia credito e importanza a questa teoria, a questa idea. Come vedete in questa simulazione primordiale sembra che si stiano formando degli agglomerati, però non è questo in realtà l'obiettivo di questo video, l'obiettivo finale ci tenevo a dirlo era questo, ma non è l'obiettivo di questo video. L'obiettivo di questo video è invece di percorrere le tappe, allora io ho fatto una sezione nel mio blog www.alessandroratti.com in cui erano previste una serie di tappe che prendevano in considerazione quelli che secondo me sono stati gli errori della fisica, Bohr, quantizzazione, Max, Max è soltanto una piccola, chiamiamola imprecisione, che forse hanno nascosto un po' certe cose, soprattutto Einstein, perché soprattutto, perché quando si dice che Einstein è sbagliato tutti si, o chi si mette a ridere, o chi si incazza, chi chiude la conversazione, perché Einstein pare che non possa sbagliare. Ora chiaramente prendete per pazzo perché perché dite sì, vabbè, hanno sbagliato tutti, non è dire hanno sbagliato tutti il mio obiettivo, ma semplicemente fare delle considerazioni per far capire che forse c'è un modo diverso di vedere le cose e forse alcune convinzioni, alcune teorie che sono state prese per buone hanno forviato la ricerca. La scienza ha preso una strada a mio avviso sbagliata, per cui se oggi si corregge il tiro, probabilmente si possono sfruttare gli esperimenti già fatti e trarre le giuste informazioni piuttosto che delle informazioni prese ad hoc per dimostrare delle teorie già prese per buone. Cioè, come dire, si è fatto un lavoro per dimostrare delle teorie piuttosto che fare un lavoro per scoprire come stanno le cose, a mio avviso. Nicholas e Morley hanno fatto un esperimento sostanzialmente basato su un interferometro per verificare in qualche modo che, sostanzialmente dicevano, se la velocità della luce è costante, considerando poi altre questioni che non sto qua a dire, dice che con questo esperimento di questo interferometro, facendo ruotare su se stesse, dovremmo aspettarci delle variazioni di una figura di interferenza. Vediamo meglio questa questione. Quindi, intanto, cos'è questo interferometro? In questo interferometro, sostanzialmente, c'è un fascio di luce, un laser, una fascia di luce, che attraversa questa lente centrale e viene divisa. Una parte va dritta, prosegue nella stessa direzione, l'altra procede nella direzione ortogonale, entrambe poi vengono rispecchiate, tornano alla lente iniziale e finiscono su un elemento, su uno specchio, dove si dovrebbero rilevare delle figure di interferenze qualora io avesse un percorso differente tra le due componenti di luce. Nel funzionamento dell'interferometro tipico, la differenza di percorso ce l'ho perché gli specchi hanno distanze diverse. Nel caso dell'esperimento di Michelson-Morley, loro sostenevano che queste variazioni di percorso ce l'ho per altri motivi. Ce l'ho perché la luce ha velocità costante, io, lo strumento si sta muovendo, poi in alcuni casi si parla di vento dell'edere, però dico non è questo l'obiettivo, cioè non vogliamo discutere di come è fatto l'esperimento, ma di far capire come concettualmente questo interferometro non può dare interferenze, non può dare una figura di interferenza per il solo movimento della Terra. Il perché è molto semplice, senza dover utilizzare formule che poi dico si possono anche utilizzare, però non vedo la necessità perché molti mi hanno obiettato ma è troppo semplice, non fai formule, non fai conti. Ma se io ho una luce che quando va nella direzione della freccia, quando immaginiamo che lo strumento si muova, l'interferometro si muove nella direzione della freccia rossa, quando la luce si muove nella stessa direzione, lo specchio tenderà ad allontanarsi, quindi a scappare, diciamo così, per cui la luce impiega un po' di tempo in più per raggiungerlo, per correre un po' di strade in più, ma quando la luce viene rispecchiata e torna indietro, avremo che lo strumento andrà incontro alla luce, compensando il ritardo di prima, cioè mentre prima la luce percorreva un po' di strade in più prima di raggiungere lo specchio, nella fase di ritorno percorrerà un po' di strade in meno per raggiungere la lente, quindi di fatto il movimento in questa direzione non mi può dare variazioni, quindi se la terra si muove o non si muove, se qualsiasi cosa si muova, cioè per me non ho una variazione della distanza che la luce percorre nell'andare avanti e indietro. Partiamo dal presupposto che io sto dando per scontato quella che secondo me è la verità, cioè che la luce nel vuoto ha velocità costante, così come diceva anche Einstein, per carità riconosciamo questo, che si riconosciamo, che è il concetto di velocità costante della luce, è a mio avviso corretto e anche logico. Il concetto che la velocità della luce non si può superare è un altro concetto a mio avviso logico e spiegherò anche il perché. Sto mettendo in discussione che questo interferometro possa dare un'interferenza per il movimento stesso della terra. analizziamo l'altra componente che può sembrare un po' più complessa, cioè sta luce parte, va nello specchio, nella verticale e poi va indietro. Se la luce si muove nel vuoto, chiaramente sarà il suo movimento, sarà indipendente da quello dello strumento. Quindi lo strumento avanza, la luce nella peggiore delle ipotesi potrebbe incidere nella dente centrale in un punto leggermente diverso, ma il percorso non cambia, attraverserà la luce e arriverà qui, avendo percorso una distanza invariata a prescindere dal movimento della terra. Allora il dubbio sarebbe ok, ma mi dovrei accorgere del fatto che sta luce docca un punto diverso. Ok, ma di cosa stiamo parlando? La luce si muove a 300 milioni di metri al secondo, le dimensioni nello strumento sono di qualche metro e anche se pare che nell'esperimento abbiano fatto riflettere la luce più volte, non arriveremo mai a superare un centinaio di metri. Quindi la luce si muove a 300 milioni di metri al secondo e deve percorrere qualche centinaio di metri in questo esperimento. Per cui parliamo di tempistiche molto basse, per cui anche considerando la velocità di rotazione della terra, la velocità di rotazione della terra attorno al solito, ho fatto anche qualche calcolo. In realtà non si possa avere il movimento della galassia, non si possa avere i contributi di movimento, se si sommano o meno, in modo positivo o negativo rispetto al movimento della galassia, che comunque a mio avviso non è e non può essere noto. Ad ogni modo, per vedere un importante, in così poco spazio, abbiamo detto un centinaio di metri di percorso, io dovrei vedere uno spostamento della luce importante, la velocità della terra dovrebbe essere veramente, veramente alta. E in ogni caso non avrei figure di interferenza, ripeto, la luce inciterebbe in un punto diverso. Invece loro che hanno pensato, Einstein ha pensato a questo punto, evidentemente la luce ha una velocità che dipende dalla sorgente. Ecco il concetto di relatività, cioè la velocità della luce è relativa alla sorgente che la genera. Questa cosa che potrebbe lasciare un beneficio di inventario, perché io dico se la sorgente si muove, magari la luce parte più veloce, di conseguenza avrà una velocità costante rispetto alla sorgente. Potrebbe anche starci, anche se non è così, a mio avviso, e vedremo che si può anche ragionevolmente dimostrare che non è così. Ma il paradosso di tutta questa storia è che sulla base di questa considerazione hanno dimostrato che i tempi si dilatano. E qua la pazzia, a mio avviso, cioè la follia è enorme. Cioè loro dicono, ok, se la luce è costante rispetto sia a un eventuale osservatore fermo, che è osservatore che si sta muovendo, o meglio, se la velocità della luce è C per un osservatore in movimento. Quindi per l'osservatore in movimento è la luce C. Per quello fermo la luce è anche C, lo dicono. Di conseguenza abbiamo avuto una traslazione del tempo, cioè follia. Allora, è chiaro che se la luce fosse C per l'osservatore inerziale, questa freccia così che vediamo, dovrebbe essere C più qualche cosa per l'osservatore fermo. E questo non può essere, perché la velocità della luce, abbiamo detto che è costante, non può essere superata, secondo la nostra ricostruzione. Ma secondo la loro sì, ecco perché poi salta fuori anche questa necessità di dilatare i tempi. Mettiamo invece che la velocità della luce rispetto all'osservatore fisso sia C rispetto a quello in movimento, dovrebbe essere C meno qualche cosa. Ma che il tempo si dilati non sta né in cielo né in terra, nel senso che il tempo è lì per i fatti suoi, è come la misura del metro. Cioè, quando io misuro una lunghezza, metto in relazione una dimensione fisica con una misura che io ho stabilito essere il centimetro, il metro, il pollice, il piede, quello che sia. Ma io ho inventato il metro per quantizzare una dimensione fisica che del metro non gliene frega niente, è lì, è una dimensione, non è una lunghezza. Allo stesso tempo io ho inventato il tempo, conto le oscillazioni di un pendolo prima, poi mi invento l'oscillazione del quarzo, la metto in relazione al giorno e alla notte, all'anno, alle stagioni, tutto utilissimo, importantissimo. permette uno strumento, così come il metro permette di progettare i palazzi, il tempo permette di fare sperimentazioni di fisica e mille altre cose, ma sono invenzione dell'uomo, il tempo non esiste, non può dilatarsi, non si può viaggiare nel tempo. Noi abbiamo inventato il tempo perché ci serviva, ma il tempo non esiste, è una grandezza che abbiamo inventato noi, così come la misura di una dimensione lineare. Ecco l'obiezione di tutti. Sì, ma per il funzionamento del GPS, sì, ma hanno dimostrato. Allora, a questo punto vi faccio una piccola osservazione che credo sia elementare, cioè un punto di riflessione che a mio avviso non parte dal presupposto che questo dizio è un cretino che dice cazzate, non parte dal presupposto che Einstein non può sbagliare, parte dal presupposto che la scienza non possa sbagliare e il Covid ci ha fatto vedere di cosa stiamo parlando, di cos'è la scienza. Hanno fatto esperimenti per capire che la tosse può contagiare. Ma non voglio fare polemiche inutili, osserviamo se è vero, perché è vero, lo ammettono tutti, che la velocità della luce non può essere superata. È chiaro che se il nucleo di un atomo si avvicina alla velocità della luce, l'elettrone non può continuare a ruotargli attorno, perché per ruotargli attorno comunque deve avere una componente di luce, una velocità maggiore, quindi componente nella direzione del nucleo pari alla velocità prossima a quella della luce, più una velocità in più che permette il movimento relativo rispetto al nucleo. Quindi di fatto, perché il nucleo possa andare alla velocità della luce, l'elettrone deve superare, oppure l'elettrone si deve fermare. Quindi un sistema dinamico, che sia un atomo, che sia un sistema biologico, se lo acceleriamo e lo portiamo ad elevate velocità, deve necessariamente rallentare i suoi movimenti relativi interni. Se giungessimo alla velocità della luce, dovrebbe praticamente congelarsi. Quindi la dilatazione dei tempi non è una dilatazione dei tempi, che non esistono e sono liberi cavoli loro, è eventualmente una dilatazione di un processo biologico, di una dinamica di un atomo, di una rotazione, di un'interazione, quindi è il rallentamento di un sistema dinamico dovuto al fatto che mi sto avvicinando alla velocità della luce. Vedremo meglio il questione velocità della luce, perché ritengo che ci sia un errore nell'equazione di Maxwell e perché non si può superare la velocità della luce, però per il momento mi fermerei qui. Spero di avere un seguito, spero che mi contestiate quello che ho detto, se non siete d'accordo, mi facciate le osservazioni magari anche costruttive, perché possa spiegare meglio come è capitato, è capitato che delle osservazioni mi hanno fatto perfezionare quantomeno l'interpretazione delle cose, perché sennò rimanevano delle lacune. Niente, se vi può interessare questo discorso, se siete curiosi quantomeno a vedere i video successivi, vi prego di seguirmi, non ci guadagno un cavolo, anche perché se ci volessi guadagnare avrei fatto prima a dire non ce n'è covid o a fare una canzone scema, ma non certo parlare di fisica dove già sono pochi gli interessati, pochi in percentuale ovviamente, ma soprattutto sono pochi quelli che sono disponibili ad ascoltare una persona che la pensa in modo diverso rispetto ad Einstein, Planck, Quark, Bohr eccetera. Grazie per l'attenzione e insomma speriamo che ci sia un seguito e che valga la pena fare altri video e magari chissà se non nasce un gruppo di ricerca in qualche modo indipendente di persone comunque competenti, comunque che sappiano fare le cose, che conoscano le cose, ma che siano disponibili da rivedere tutto in una luce diversa. Badate che non sono l'unico a mettere in discussione tutto, non sono il primo e l'ultimo e insomma che sbaglino tutti, che siano tutti pazzi quelli che dicono che Einstein ha detto che il tempo si dilata, mentre mi pare che dire che il tempo si dilata sia la vera follia, a voi la luta sentenza, grazie, una buona serata e speriamo alla prossima.